Buongiorno a tutti, leggo con stupore e meraviglia e anche sorpresa l'arrivo di Meloni oggi all'Aquila e poi ovviamente si regherà a Montesilvano. Bene, chi siamo noi? Noi siamo i cittadini di Manopelle Brecciarola che fanno parte di un comitato, CONFER, che non è un comitato contrario al progetto ma contrario alla scelta del tracciato. Quindi se questo progetto si deve fare, se sa da fare, che si faccia bene. Leggo che la Meloni andrà all'Aquila per la firma dell'accordo di coesione con la Regione che potrebbe sbloccare, potrebbe dico potrebbe, l'intoppo dei fondi al treno Roma-Pescara. Ebbene, io come presidente del comitato CONFER, nonché cittadina di Manopello interessata dai lotti 1 e 2, invito la presidente Meloni, mentre dall'Aquila va a Montesilvano, a uscire all'autostrada di Manopello e a fermarsi 30 secondi per vedere una soluzione alternativa, per vedere il danno che attualmente, se veramente oggi si decide di cofinanziare l'intervento dei lotti 1 e 2, considerando che la Pescara Roma parte da Pescara e arriva a Roma e ad oggi gli unici lotti di cui si sente parlare in maniera esecutiva sono proprio i lotti 1 e 2, 12 chilometri se non ricordo male, la invito a fermarsi a Manopello per vedere il danno che farà e soprattutto a tornare nei luoghi dove anni fa, nella prima candidatura del presidente Marsilio, lei è venuta sotto casa mia. Io non ho potuta conoscerlo perché avevo la febbre, però l'avrei voluta conoscere. Quindi, visto che ad oggi noi chiediamo con forza che si faccia un intervento e che si faccia bene perché sia un intervento veramente utile alla società e che i soldi vengano spesi bene e vengano spesi e si abbia la certezza sia dei fondi che del progetto e dell'esecuzione dei lavori e delle tempistiche, noi invitiamo la presidente qui, sul territorio, ma non la invitiamo con manganelli o altro per fare commedia. La commedia, come detto tempo fa, la commedia si fa il teatro. Noi veniamo qui per essere ascoltati e per fargli vedere con gli occhi suoi quello che accadrà sul territorio, perché fino ad oggi neanche i nostri rappresentanti del semplice comune l'hanno capito o non l'hanno voluto capire. Invitiamo lei che è sempre pronta ad ascoltare, che ci ascolti.